Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi Qua non ti ascoltano quando i sete ti stanno addosso Quando bevi, ah baby, ah baby Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi Grazie! Ciao a tutti amici, noi siamo i Gangster Link e benvenuti in un nuovo video di questa settimana Oggi chiameremo ristoranti, pizzerie e forza anche trans, chi lo sa? Quindi dobbiamo chiamare te? Con la canzone Abidi di Ghali, che è questa qua Questi sono tutti i numeri e inizia Mamma Dania ovviamente Oh sì, ciao Pronta? Sei carica? Mi piace fumare con lei della flora Pronto? Mi piace fumare con lei della flora In altre città d'Europa In altre città d'Europa tenerla da dietro e sbaffare la Roma Mentre cucina qualcosa di aperitoso Bene vino rosso Guardare Guardare le documentari sul diverso e su come funziona E' la via di Carlito ma con un lieto fine Come andare in paradisi? No 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 aspetta Ciao a buona serata E' la via di Carlito ma non è quella canzone E' la via di Carlito è uguale E' una via di Carlito ma non è quella canzone In altre città d'Europa Tenerla da dietro e sbaffare la Roma Bere vino rosso Guardare dei documentari sull'universo e su come funziona oh ma stai a mangiare un gatto ma puoi rispondere che te piomento buongiorno mi piace fumare con lei della flora in altri cittadini d'Europa tenerla da dietro e sbaffare l'aroma mentre cucina qualcosa di appetitoso pronto? bere vino rosso bere vino rosso guardare dei documentari sull'universo su come funziona è la via di Carlito ma con un lieto fine è come andare in paradiso ma senza morire è una rosa senza spine come? facche energie negative tra i tuoi amici ci sono delle spie alla faccia di quello va a dire neri neri fumiamo i casini beviamo i problemi fammi un applauso con i piedi fammi un applauso con i piedi ora che sono ancora in piedi grazie grazie qua non ti ascolta quando siete qua non ti ascolta quando siete ti stanno addosso quando bevi habibi habibi scusa fra scusa mamma se mia mamma accusa oh quando sono tardi tu sei la mia scusa sei la mia scusa tu sei il mio rifugio come? ma mi stai chiudendo la polizia? no ho detto scusa ho detto scusa sei la mia scusa volevo fare il pilota pronto? si pronto? mi senti? eh adesso si allora allora se io prendevo la mia scusa e come qui ci stava fatta una denuncia di arachignelli e quindi va a farmi si infatti eh quanto mi è un cago sotto allora ragazzi spero che vi ha fatto sorridere questo video lasciando un bellissimo mi piace commentate iscrivetevi nel nostro canale e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video grazie mille per tutti quanti che ci sostenete ciao ragazzi ciao e noi dobbiamo lasciare ma hey io dico che è ok io non vedo l'ora di tornare voglio ritornare addio addio amici addio addio ma venite domani da noi ciao 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 ciao